In questo video io sono il responsabile di tante bestemmie quando tua moglie lava i piatti mentre tu sei sotto la doccia Provate a immaginare di tapparvi il cu**o con un tappo di sughero e provare a scoreggiare, non è per niente piacevole Oppala come fanno i boomer Che cazzo di intro è questo? Buonasera, bentornati sul canale Sbragliando si impara Il nome vi fa presente che qui non si nasce imparati Le cose si spiegano in base alle esperienze che si sono accumulate in tanti anni di lavoro e di mestiere Questo è importante dirlo perché? Perché quello che andremo ad affrontare questa sera è un argomento che potrebbe essere di comune interesse Soprattutto per chi ha una caldaia E io so che dall'altra parte della telecamera tanti di voi una caldaia ce l'hanno Quello che potrebbe essere di comune interesse è l'uso dell'acqua calda che normalmente voi fate per lavare i piatti Piatto Fabriano Tac Lavarvi il cu**o Farvi la doccia Un momento, un momento A meno che voi non siate dei gran sozzoni e non sapete che cos'è l'acqua calda Fatto sta che quello che vi sto per spiegare nei prossimi 10-15 minuti È di importanza rilevante soprattutto per chi accusa dei problemi di rendimento sulla propria caldaia Quello che ho in mano è praticamente il responsabile della maggior parte dei vostri problemi Che sulla caldaia in maniera molto frequente si possono presentare proprio con l'utilizzo dell'acqua sanitaria E quindi quello che ti consiglio è di iscriverti al canale Sbragliando Si Impara perché è un gesto gratuito e fa molto piacere E in alcuni video tipo questo do dei consigli anche molto pratici e utili per risparmiare gas nell'utilizzo proprio dell'acqua sanitaria Ora vi insegno come lavarvi davvero con acqua pulita e vi spiego l'acqua calda Ehi, ciao! Sono uno scambiatore sanitario Il mio compito è quello di darti l'acqua calda Io sono il responsabile di tante bestemmie quando tua moglie lava i piatti mentre tu sei sotto la doccia Ora ti spiego come funziona Vieni con me Madonna quanto è inquietante questa cosa Questo che vedete è uno scambiatore sanitario Scambiatore a piastre fatto in acciaio inox Questi scambiatori solitamente sono di tantissimi modelli Hanno tante forme, tante impronte, tanti profili Insomma ce n'è veramente un'infinità Dritti, al contrario In base al tipo di caldaia alla quale andiamo a fare manutenzione Ecco perché questa foto che ho messo in rete in un gruppo di termoidraulici Ha suscitato qualche clamore Perché in tanti i miei colleghi sostengono il fatto che questi scambiatori vanno montati solo ed esclusivamente da una parte piuttosto che dall'altra Completamente sbagliato Pronti! Semplicemente perché hanno degli attacchi diversi E normalmente chi fa multimarca questa cosa la sa Non tutte le caldaie sono uguali Giusto chiarire per quelli che sicuramente entreranno qui dentro e romperanno i coglioni per quel post che ho fatto su Facebook Questi scambiatori notoriamente hanno quattro buchi In tanti di voi direbbero meglio quattro che solo uno O in alcuni casi solo due Cosa avrò voluto dire con questa cosa? Beh potete immaginarlo In sostanza le caldaie murali ma non troppo di nuova generazione si adopera questo sistema di scambio termico di calore Ciò sta a significare semplicemente che la caldaia, la maggior parte delle caldaie sfruttano l'acqua termica Quella presente anche nei termosifoni Per cedere calore all'acqua sanitaria E lo fa proprio tramite questo scambiatore a piastre Quella che vedete è una caldaia a condensazione Che ha già sulle spalle tipo 6 anni di funzionamento Questa caldaia mi scalda Due appartamenti Ognuno da 120 metri quadri Stiamo parlando di una 30 kilowatt dell'Ariston Ma non ci interessa Scambiatore primario Scambiatore secondario È il famoso scambiatore sanitario Quello che appunto vi fornisce acqua calda ai vostri rubinetti Sfruttando il calore a circuito chiuso dell'acqua termica della caldaia Questa è la famosa valvola trevie che chiude il circuito Che si attiva nel momento in cui si apre il vostro rubinetto dell'acqua sanitaria Una volta chiuso il circuito L'acqua termica si dedicherà solo ed esclusivamente a cedere calore verso l'acqua sanitaria L'acqua che voi usate per farvi la doccia In questo processo a circuito chiuso avviene la magia Lo scambio viene gestito eventualmente da una sonda elettronica Che gestisce e modula la temperatura da voi impostata sulla caldaia Anche in base ai flussi da voi richiesti Quindi anche l'apertura del rubinetto può influenzare e incidere questo tipo di comportamento Nelle caldaie più moderne più abbiamo campo di modulazione Più abbiamo la possibilità di avere la temperatura sempre costante Con pochissima richiesta di flusso da parte dei vostri rubinetti Ovviamente tutto questo se la caldaia è pulita E se questi due circuiti sia il primario sia il secondario Sono completamente vergini Questa acqua termica di conseguenza passa appunto qui In questo scambiatore In questi due buchi che vedete Ma in alcune caldaie possono essere anche sotto Quindi prendetelo solo come esempio Entrando da un buco e uscendo dall'altro Si crea una sorta di circuito chiuso all'interno della caldaia Questo calore che si forma automaticamente viene utilizzato dagli altri due buchi Dove appunto passa effettivamente la vostra acqua del rubinetto Indirettamente questo scambiatore è causa-effetto di tutto quello che esce dal vostro rubinetto della doccia Fate i conti che sia come un rene Una volta capito questo processo È facile intuire che l'acqua deve essere pulita Sia dalla parte del sanitario Ma soprattutto dalla parte dell'acqua termica Perché ovviamente se si dovesse intasare malauguratamente Uno delle due sezioni La caldaia si comporta purtroppo in malo modo Non rendendo Andando probabilmente in ebollizione per mancata o insufficienza a circolazione Facendo dei rumoracci E di conseguenza non dandovi l'acqua calda Se questa cosa non viene assolutamente guardata o controllata Nel momento in cui si ha la sensazione che la caldaia renda male Questo può causare la rottura definitiva del vostro apparecchio Provate a immaginare di tapparvi il c***o con un tappo di sughero E provare a scoreggiare Ecco più o meno la sensazione è quella lì Non è per niente piacevole Ecco perché è importante fare tre cose fondamentali Per mantenere questo scambiatore pulito La pulizia degli impianti non è solo necessaria ma è obbligatoria Soddisfatto? Eh sì Tenga Notoriamente si deve fare ogni dieci anni E quando si parla di impianti Attenzione Parliamo di impianto termo Circuito primario Acqua termica che viene appunto sfruttata dalla caldaia Per far funzionare questo scambiatore Quest'acqua è quella che è considerata forse la più importante di tutte Tende purtroppo a inacidirsi Non c'è un ricambio di acqua nuova o pulita E dal momento che deve girare normalmente in impianti Dove la presenza di ferro è quasi sicura Soprattutto se parliamo di impianti molto vecchi È ovvio che con il tempo quest'acqua potrebbe diventare lurida e putrida Il fatto che ogni volta noi apriamo il rubinetto e richiediamo acqua calda Significa che qui all'interno di questo scambiatore In una sezione Passi quest'acqua di continuo E dal momento che questi scambiatori sono fatti a lamelle Intrecciate l'una e saldate con l'altra Deve avvenire appunto questo famoso scambio di calore Queste lamelle sono talmente sottili Che se per caso si dovesse fermare dello sporco O delle scaglie ferrose Residui dei vostri termosifoni Questo scambiatore non funziona correttamente E il processo di scambio non può avvenire Risultato? Voi non avete l'acqua calda Ecco perché trattare l'acqua termica del vostro impianto È fondamentale Ed è obbligatorio farlo nel momento in cui si sostituisce una caldaia Con un prodotto di nuova generazione Mi raccomando è fondamentale un filtro magnetico sul ritorno della caldaia Proprio per evitare che queste scaglie possano entrare all'interno del vostro prodotto E creare queste problematiche Anche se solo il filtro purtroppo non è sufficiente Come in tanti dicono Sbagliano di grosso E a lungo andare può creare dei danni Non meno importante è il settore sanitario L'arrivo è previsto Seduto va bene Verso le 4 Come il seduto va bene? L'altro settore ovvero dove passa l'acqua sanitaria Deve essere altrettanto controllato e depurato Anche qui è obbligatorio un trattamento Nel caso in cui a livello regionale ci siano delle presenze di durezza superiori alla norma Come ad esempio in Emilia Romagna Qui da noi a Reggio Emilia l'acqua è disastrosa Addirittura qua a Scandiano supera i 47 gradi francesi Poi ogni acqua ovviamente è differente Acqua calcarea, acqua ferrosa Acqua dell'acquedotto o acqua prelevata direttamente da una falda acquifera Quindi la classica acqua del pozzo Possono essere sicuramente presenze di diverso tipo in questo settore La maggior parte delle volte però capita che a forza di usare l'acqua molto calda In breve tempo in sostanza si riempie di calcio In questi casi il trattamento dell'acqua avviene in due modi in sostanza O con un filtro polifosfato che fa in modo che questo calcare non si attacchi Nel punto di maggior calore Ovvero questo scambiatore Oppure il classico addolcitore Che toglie completamente il calcare dalla vostra acqua Attenzione, completamente per modo di dire State attenti a non depurare troppo la vostra acqua Il rischio è che diventi davvero un'acqua molto cattiva E che addirittura possa mangiare i materiali Ma ne parleremo in un prossimo video L'acqua la si deve adoperare alla temperatura giusta Già tarata dalla caldaia Quindi non dovete essere voi a miscelarla e a richiederla bollente È un controsenso E lo spiego qui in questo video Dove richiedere l'acqua bollente porta solo a consumo maggiore E a formazione di calcare Una volta tarata esattamente al punto giusto E il punto che vi piace Non dovete neanche più miscelare Voi aprite bellamente la vostra acqua calda Aspettate quei secondi che servono Perché arrivi in temperatura E quella rimane Senza distacchi e senza variazioni Ovvio solo se questo scambiatore è pulito E senza la presenza di calcare Siamo quasi obbligati a farlo amici Perché se richiediamo delle temperature molto elevate Questi scambiatori durano veramente poco E se ogni tanto non si controllano Ai primi atteggiamenti sbagliati della vostra caldaia Questo può crearvi dei seri problemi Ecco perché vi ho detto che è come un rene Non si formano i calcoli renali Provate a immaginare la stessa identica cosa E la sofferenza che la caldaia può ricevere Nel caso in cui il settore dell'acqua sanitaria Si possa riempire di calcare Quindi è di vitale importanza Provare a ascoltare la caldaia Provare a sentire se cambia rumore Nel momento in cui usate l'acqua sanitaria O se sotto la doccia vi varia Vi possa variare di temperatura Senza che nessun altro apra un altro rubinetto Questo è già un indice che vi fa capire Che la vostra caldaia ha bisogno di una manutenzione Al più presto Perché sta a significare che al suo interno Questo scambiatore sta cominciando ad avere I primi sintomi di calcare O di sporcizia al suo interno Sento tanti miei colleghi Che lavano questi scambiatori con l'acido Quello che si adopera appunto per togliere il calcare Ma cosa succede all'interno dello scambiatore Se si adopera un acido? Intanto il rischio è che se si adopera un acido Troppo pesante, troppo cattivo Lo scambiatore si possa forare internamente E questo comporterebbe l'unione delle due acque Cosa che assolutamente è da evitare E ve ne accorgete per due semplici motivi Il primo è un innalzamento della pressione della caldaia Anche da caldaia spenta L'altro punto è che vi possiate fare la doccia appunto Con l'acqua putrida dei termosifoni Quindi se sentite l'acqua puzzare O sentite l'acqua con un odore cattivo Molto probabilmente è già avvenuto questo disastro La foratura interna di questo scambiatore In vent'anni ne ho viste veramente di tutti i colori E vi posso garantire che la maggior parte delle problematiche delle caldaie Parte e arriva solo da una malgestione del trattamento delle acque Sia primaria sia secondaria E che questo rene possa lavorare in maniera efficiente Per qualsiasi informazione e se volete saperne di più Io sono a disposizione E potete scrivermi nei commenti Quello che volete Se avete dei dubbi o incertezze Insomma cerco di dare risposta a tutti i vostri quesiti E se la cosa vi interessa posso approfondire Eventualmente con un secondo video E vi faccio vedere eventualmente come si fa Anche a smontare uno scambiatore del genere E perché no? A volte anche pulirlo Però attenzione Perché ci sono tanti tipi di sporcizia E tanti tipi di materiale Che si possono incastrare in queste fottutissime lamelle Quindi amici miei Io vi ringrazio di essere rimasti con me in questo video E se vi è piaciuto Mettete un like E iscrivetevi al canale Sbragliando si impara Da Matteo Braglia è tutto Un bacio Un abbraccio Ciao Un abbraccio